Reduce dall'inaspettata sconfitta di Latina, la T-Grupparechi proverà a riscattarsi già a partire da oggi pomeriggio nell'impegno casalingo che la vedrà affrontare la Water Polo Bari, neopromossa in Serie A e sorpresa del girone nell'incontro valido per la quarta giornata di ritorno. Un match delicato, quello che si disputerà alla Piscina Vitale alle ore 17 contro una compagine che la settimana scorsa ha agguantato per la prima volta la quarta posizione in classifica, proprio a discapito dei ragazzi allenati da Mario Grieco. Quest'ultimi non potranno più concedersi distrazioni se vorranno mantenere inalterate ambizioni di alta classifica. Un solo punto separa le due compagini, la T-Grupparechi occupa la quinta posizione con 28 punti in classifica e dal momento fuori dall'ultimo posto utile per l'accesso ai play-off. La Water Polo Bari la precede di una sola lunghezza ed è Reduce dal prestigioso successo ottenuto in casa contro il Civitavecchia. Sarà uno scontro diretto quindi che potrebbe rappresentare un crocevia importante per i ragazzi in canottina bianco-blu in vista del proseguo del campionato. Qualche difficoltà di troppo ha caratterizzato la preparazione settimanale per la T-Grupparechi. Out Gianluca Esposito a seguito di un infortunio patito nelle battute finali del match contro il Latina e contro i pugliesi rischia di non esserci anche Gianpaolo De Rosa a causa di un colpo subito in allenamento.